...en un desfile. E ora, quindi, la parola e la toma del signor Embajador di Italia in Argentina, che lo recibe oggi amablemente, Giuseppe Manzo. Buonasera a tutti, grazie. Grazie per l'introduzione. E grazie, innanzitutto, ai miei connazionali e corregionali che sono arrivati ieri qua da Torre del Greco e dal Golfo di Napoli. Oggi, voi stanno... Bueno, stiamo qui per disfrutare di un evento unico. È vero, è unico. L'evento di questa voce è unico. E per questo, vorrei ringraziare, soprattutto, la Asociazione Nacional di Corregionali che lo dice, che lo dice, che lo dice, che lo dice, che lo dice possibile. Grazie, quindi, al Presidente Tomasso Massa e anche al Viziatri Bolle, la città di Torre del Greco. E, per favore, che si uniscono, amici, un applauso per tutti i nostri amici, amici, maestri, empresari e empresari che ayer, che ayer, chegaron da Italia, llevando, anche a Buenos Aires, su tesoro. Benvenuti. Grazie. Grazie.